...con Pietro, Monica e Gabriele, Alessandro e Giulia, Adriana e Nicola e Piero Loredana. Allora, un... sì, dobbiamo solo spostare una macchina, una Hyundai, mi hai detto? A R041YV, da spostare subito perché il signore dovrebbe andare a casa, una Hyundai grigia, per cortesia, no, non è la mia, io sono venuta con il pullman. Steffi, volevano accusarti. Mi chiede qua il provo, eh? Ok, posizione, partiamo con un... boogie boogie! Sous-titrage ST' 501 C'è sempre di un bambino in mezza Mi sono in mezza Io ho provato, o comunque Non ho vordi Non ho dovuto parlare C'è un bambino per decidere E io sono tentati Ho dovuto Io pensare Ho d'embrassare Grazie a tutti. Je t'aime, quand même, mais on perdra la raison, mais comment faire pour m'évader, dans ma vision, je suis son chemin, je suis patient, je te l'entends, j'y penserai, oh, t'embrassant. Buggy Buggy! Ok, vi facciamo accomodare, poi vi faremo tornare in pista dopo. Ok, un pezzettino di baciata con Stefano e Teresa E' facile poti essere e oggi ti va a portare a cucinare Non sai perché, per la decisione che a te prendere Mi alma, io qui ti sollo per a tutti i altri Non ti tiene mai, non ti tiene mai Te amo tu, tu amo mi colore E non voglio sapere Non voglio essere nulla in tua vita Non voglio essere nulla in tua vita Sono i sentimenti che mi stima Mi viene l'amore e mi quita la vita Non voglio essere nulla in tua vita Non voglio essere nulla in tua vita Sono i sentimenti che mi stima Mi viene l'amore e mi quita la vita Stefano e Teresa Mi faccio accomodare un attimo Allora, intanto che loro escono un attimo dalla pista Volevo fare intanto un ringraziamento a tutti gli organizzatori della festa A Don Pippo che ci ha invitato qui stasera E all'opportunità che ci ha dato E un grazie di cuore a tutti per farci fare queste piccole cose Perché a volte capiamo che sulle feste la gente si vuole divertire Vi rubiamo ancora proprio il tempo di un ultimo pezzo Poi lasceremo la parola all'orchestra Perché così andranno avanti per far ballare Allora, io ho qui il piccolo Gabriele Che devo dire che lo aspetterò presto nella mia scuola di ballo Perché è già un ballerino Lui è andato a tempo con tutti i pezzi che abbiamo fatto fino adesso È veramente bravissimo questo bambino Bravo Gabriele, bravissimo A parte che stasera ho visto qui davanti i bambini ballare Siete tutti favolosi Veramente bravi, bravi, bravi Vi ho vinto sulla danza a Cuduro Che è veramente difficile fare i movimenti Ma siete stati fantastici Ok, allora Adesso facciamo entrare in pista per l'ultimo pezzo Partiamo da Michele con Andrea Alessia Dov'è Mattia? Non li vedo Ok Alessia con Mattia Stefano e Teresa Mario ed Elisa Gisella con Manuele Ramona con Alessandro Gabriele con Monica Maurizio con Adele E Alessia, ci sei? L'Alessia stasera gioca in casa C'è la mamma che canta nell'orchestra Alessia con Davide Pietro con Paola Ok Loro vi faranno un piccolo pezzettino Di quello che credo che abbiamo sempre ballato tantissimo negli anni indietro Un po' tutti Dirty Dancing Partiremo con un pezzettino di Dirty Dancing E poi andremo su un pezzo di Mambo Prego E poi andremo su un pezzettino di Dirty Dancing E poi andremo su un pezzettino di Dirty Dancing E poi andremo su un pezzettino di Dirty Dancing Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.